60 incontri in contemporanea in tutta Italia per parlare dell'Europa che verrà. Sono organizzati da Europe Direct e dalla Commissione Europea. In mattinata dibattito al BO a pochi mesi dalle elezioni per Bruxelles. Quale sarà l'Europa che verrà? Questa è Europa incompiuta. Appunto se ne sta parlando in un momento cruciale per l'Unione Europea. È partita la programmazione 2014-2020, mille miliardi a disposizione degli Stati membri. E' in arrivo il semestre di presidenza italiana. Tante opportunità dunque, ma sfruttate poco almeno fino a questo momento. Forse è proprio per questo che la distanza tra cittadini e l'Europa sta diventando ogni giorno sempre più grande. La riprova sta nel successo dei movimenti euroscettici. L'abbiamo visto comunque da più tempo anche in Italia. La scommessa per noi come Commissione Europea è riportarsi all'Europa, rapportarsi nuovamente all'Europa dei cittadini parlando direttamente ai cittadini. Come dicevo prima, non venire a promuovere l'Europa come il migliore dei mondi possibili o l'Europa esclusivamente delle mirebolanti opportunità, cosa che è assolutamente vera rispetto soprattutto alle nuove generazioni, ma anche fare un esercizio, se volete, di onestà intellettuale, chiede se non ti riconosci nell'Europa che c'è, dici perché. Alla base della disaffezione c'è anche un problema di comunicazione. La cosa importante, io credo, sia quella di riuscire soprattutto a comunicare meglio qual è la chance di sviluppo che offre l'Unione Europea, soprattutto ai territori, alle regioni e alle città.